Le previsioni al tempo per martedì 25 agosto. Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata con diminuzione della copertura nel pomeriggio. Nelle prime ore della giornata rovesci o temporali sparsi, temperature in diminuzione, venti nord-occidentali di brezza tesa nelle zone interne, di vento moderato lungo la costa, mare mosso con moto ondoso in diminuzione dal tardo pomeriggio.